io non sono di coloro o signori i quali credono che in questo mondo si possa facilmente sopprimere il dolore il dolore è una legge divina ma sono di quelli che pensano e affermano si possa benissimo distruggere la miseria rimarcate bene o signori io non dico diminuire attenuare limitare circoscrivere eccetera io grido alto che la miseria si può distruggere la miseria è una malattia del corpo sociale come la lebra era una malattia del corpo umano la miseria può sparire come è scomparsa la lebra distruggere la miseria sì questo è possibile i legislatori e i governanti devono pensare a ciò costantemente senza riposo perché in una tale materia in che tutto quello che è possibile non è stato fatto il dovere non è compiuto la miseria o signori io penetro nel vivo della questione volete sapere dove la miseria volete sapere fin dove arriva fin dove e la giunge non dico in irlanda non dico nel medioevo dico in francia dico a parigi e dai tempi nei quali viviamo volete dei fatti beh a parigi mio dio io non esito a citarli certi fatti sono tristi ma è necessario rivelarli e guardate bene se debo dire tutto intero qual è il mio pensiero vorrei che da questa assemblea uscisse e nel caso sarei pronto a farne formale proposta una grande e solenne inchiesta sulla vera situazione delle classi operaie sofferenti io vorrei che tanti fatti splendessero alla luce del sole come vogliamo guarire il male se non si conoscono le piaghe ecco dunque dei fatti esiste a parigi nei sobborghi di quella parigi che il soffio della sommossa sollevava or non è molto tanto facilmente esistono in certe case delle cloache dove delle famiglie delle famiglie intere vivono confuse uomini donne fanciulle fanciulli non avendo per letto non avendo per coprirsi sto per dire per vestirsi che dei brandelli putridi di stracci in fermentazione raccolti nel fango fuori delle barriere dove si accumulano tutte le ceneri della città e dove delle creature umane corrono per scaldarsi e per vincere il freddo che le assale questo un fatto ecco ne altri in questi ultimi giorni un uomo mio dio un disgraziato uomo di lettere un letterato poiché la miseria colpisce tanto le professioni liberali quanto quelle manuali un disgraziato dunque è morto di fame alla lettera si è constatato dopo la morte che egli non aveva mangiato da sei giorni volete qualcosa di più doloroso il mese passato durante la recludescenza del colera si è trovata una madre con i suoi quattro bambini che cercava un po di nutrimento fra i ritagli immondi e pestilenziali dei macelli di monfosson ebbene io dico signori che queste sono cose che non debbono esistere io dico che la società deve spendere tutte le sue forze tutte le sue sollecitudini tutta la sua intelligenza tutta la sua volontà perché tali fatti non avvengano io dico che questi fatti in un paese civilizzato impegnano la coscienza della società tutta intera e che io che parlo mi sento complice e solidale perché tali fatti non sono solamente delle colpe verso gli uomini ma anche dei delitti verso dio ecco perché io sono convinto ecco perché vorrei convincere tutti quelli che mi ascoltano della grande importanza della proposta che è sottoposta al vostro giudizio non è che un primo passo ma è un passo decisivo io vorrei che questa assemblea maggioranza minoranza non importa in tali questioni io non conosco né destra né sinistra vorrei che questa assemblea non avesse che una sola anima per incamminarsi verso il raggiungimento di un tal fine di un fine così magnifico così sublime l'abolizione della miseria e o signori io non mi rivolgo soltanto alla vostra generosità mi indirizzo a quello che vedi più serio nel sentimento politico di un'assemblea di legislatori a questo soggetto un'ultima parola poi avrà finito signori come io vi dicevo poco fa col concorso della guardia nazionale dell'armata di tutte le forze vive del paese voi avete ristabilito ancora una volta l'ordine voi non avete retrocesso dinanzi a nessun pericolo voi non avete esitato dinanzi a nessun dovere voi avete salvato la società il governo legale le istituzioni la quiete pubblica la civilizzazione stessa voi avete fatto una cosa considerevole ebbene voi non avete fatto nulla sì voi non avete fatto niente insisto su questo punto non avete fatto niente perché l'ordine materiale ottenuto non ha per base l'ordine morale consolidato voi non avete fatto nulla finché il popolo soffre voi non avrete fatto nulla finché sotto a voi esisterà una parte di popolo che non ha fiducia non avrete fatto nulla finché coloro che sono forti e nell'età della vita e del lavoro possono rimanere senza pane finché coloro che sono vecchi e che hanno lavorato possono restare senza tetto finché l'usura divora le nostre campagne finché si muore di fame nelle nostre città finché non vi saranno delle leggi fraterne delle leggi evangeliche che da ogni parte giungano a soccorrere le famiglie oneste i contadini gli operai tutti coloro che hanno cuore voi non avrete fatto nulla finché lo spirito rivoluzionario avrà per alleato la sofferenza pubblica non avrete fatto nulla fatto nulla finché il cattivo nel suo lavoro sotterraneo e segreto avrà per collaboratore fatale l'uomo che soffre vedete o signori io lo ripeto terminando non è soltanto alla vostra generosità che mi rivolgo è anche alla vostra saggezza mi scongiuro di riflettere signore signori pensateci bene è l'anarchia che apre gli abissi ma è la miseria che li scava voi avete fatto delle leggi contro l'anarchia fate adesso delle leggi contro la miseria